Due naufraghi dalla Zattera stanno cercando di scostarsi dalla barca Domenico continua a prepararsi La barca avvele al nostro traverso Il pilota all'aerosoccurritore mi fa il segnale di ok L'aerosoccurritore con il naufrago In risalita, liberita ostacoli, la Zattera è sotto di noi Ok, ci stiamo liberando E lo sistema in cabina L'altro naufrago è sotto di noi Mi fa il segnale di ok, lo mando giù L'aerosoccurritore è in sicurezza e il naufrago è in sicurezza L'aerosoccurritore è in sicurezza L'aerosoccurritore è in sicurezza